E' stato presentato oggi in Consiglio Provinciale il sesto rapporto sulla situazione occupazionale delle donne e degli uomini nelle aziende altotesine con più di 100 dipendenti relativo al bienio 2018-2019 elaborato dall'Istituto Promozione Lavoratori IPL su incarico della consigliera di parità della provincia di Bolzano. Il quadro dell'attuale situazione è stato tracciato dalla consigliera di parità Michela Morandini e dal presidente IPL Dieter Maier insieme alle autrici Silvia Vogliotti e Gaia Peressini. E' già il sesto rapporto per cui noi da ormai 12 anni collaboriamo con la FPL che ci elabora i dati e scrive questo rapporto e bisogna dire una cosa, se si guarda la situazione delle donne nelle grandi aziende altotesine purtroppo non è cambiato niente, stiamo parlando dei dati del 2018-2019, del bienio per cui già prima della pandemia non avevamo l'equità, le pari opportunità sul posto di lavoro. Devo dire che sono sempre le stesse le aree dove le donne ancora, diciamo, rimangono indietro rispetto ai colleghi maschili, la segregazione orizzontale, il part-time, abbiamo solo il 9,7% delle dirigenti, le stabilizzazioni sono soprattutto maschili o appunto i uomini vengono stabilizzati. Nel 2020 sono state 156 le imprese che hanno consegnato i dati del bienio 2018-2019 con riferimento a composizione del personale, assunzioni e dimissioni, figure professionali, forme contrattuali e formazione nelle aziende. Si tratta delle imprese sopra i 100 dipendenti in Alto Adige, le donne in queste imprese sono solo il 9,7% dei dirigenti pur rappresentando il 41% circa della forza lavoro. Part-time e aspettative per maternità sono ancora molto femminili, quindi sono due strumenti che le donne usano ancora oggi per conciliare famiglia e lavoro. Su 10 genitori, 9 sono ancora le mamme, quelle che si prendono un'aspettativa dal lavoro, un congedo facoltativo per curare e educare i propri figli. Quindi le donne sono ancora un po' imbrigliate anche nel labirinto della precarietà. La situazione non è migliorata negli ultimi anni e probabilmente la pandemia la aggraverà ulteriormente. Permane quindi il divario tra principi di uguaglianza e realtà dei fatti. Le donne possono avere gli stessi diritti sulla carta ma non hanno le stesse opportunità per un lavoro permanente, per una carriera, per uno stipendio uguale. L'indagine sulla situazione occupazionale presentata dalla consigliere di parità ci offre un quadro delle situazioni e del suo sviluppo negli anni. Secondo Morandini è importante ora che venga attuata una politica attiva del lavoro per quanto riguarda l'occupazione femminile, che si promuova un cambiamento culturale rompendo gli stereotipi di genere e che vengano create strutture per la conciliazione di famiglia e lavoro su tutto il territorio provinciale. Grazie.